buongiorno a tutti so che la luce non è delle migliori però faremo così e oggi vi lascio un video che mi è stato richiesto milioni e milioni di volte ed è ovviamente il bookshelf tour il bookshelf tour della mia del mio salone paradossalmente tutto il mio salotto è una biblioteca e quindi vi farò vedere le due librerie alle mie spalle la libreria grande qui di lato e le due librerie billy la in fondo spero che vi piaccia sarà sicuramente una faticata impressionante con rischio di morte perché devo salire in piedi su degli sgabelli insomma quelli dove sono seduta l'ora e niente noi ci vediamo tra pochissimo era lo scaffale più alto è decorato con ade e hercules sopra a pegaso che sono molto molto carini adesso magari questo lo sposto perché troppo grande e abbiamo due diverse case editrici per eliot edizioni abbiamo la dama del sudario intero in cielo on aaron e liu venilia qua sotto abbiamo racconti al tramonto serie di fantasme cuore di seppia la ragazza del ritratto il vangelo secondo biff la trilogia di gemma d'ogli liba bray e due volumettini su jane austen e poi abbiamo per fazzi la famiglia obri i primi due volumi dei casalè lo schiavista anima un incantevole aprile the quick e felina scendendo ancora di uno abbiamo da sinistra le storie per bambini ribelli insomma suole della buona matta per bambini ribelli la biografia dei romanov i tre volumi illustrati di umberto ecco e le mie edizioni bur deluxe jane austen orgoglio pregiudizio l'inferno di dante frankenstein e la regina delle nevi altri racconti di anderson e di bianco c'è mary il mostro ed è decorata con i personaggi della bella addormentata nel bosco scendendo ancora in questo spazzetto decorato con mulan mushu e cri cri abbiamo internet apocalypse la sopra di odio al giappone e il regno diviso poi dopo abbiamo gli adelfi gli dei della grecia abbiamo sempre vissuto nel castello le nozze di cadmo e armonia lolita una signora perduta sherry la fine di sherry la pezza scarlata di london il velo dipinto tito di gomer hast l'incubo di e laus la mente colorata flatlandia un c'è la sovrana lettrice la signora del furgone o nel furgone e qua in fondo abbiamo i miei big sur nessuno scompare davvero le risposte di creatri in lesi e rosemary's baby scendendo ancora di uno con questa meravigliosa rory gilmore con anche il porta chiave once a gilmore o luisa gilmore che mi ha fatto un'amica abbiamo son zogno e ponte alle grazie da sinistra la canzone di achille i tre volumi primi tre volumi della serie di paul dark o paul dark di graham l'amante inglese di sissi victoria il giglio di fuoco poi c'è un buco che è occupato dalla sala da ballo che è in attualmente lettura il racconto dell'ancella e l'altra grace della hot food la filosofia derry potter e sopra il libro che non volevo scrivere scendendo ancora meno decorato degli altri con soltanto questo volume di q and a che poi dopo è un year journal che mi ha regalato un'amica cioè la mia migliore amica che viveva in america abbiamo da sinistra la svastica sul sole il cerchio di day weggers wolf art di alessia coppola l'estate che sciolse ogni cosa l'amore tempi di batman il bacio da una morta vivi i vivi e i morti bagliore a san pietroburgo questo nero nome non si legge niente e la fabbrica delle vespe poi abbiamo max di sara cohen scalia ma birile resti lesti non buttiamoci giù il paradiso delle signore e una versione alquanto strana di biancaneve nell'ultimo scaffale in basso abbiamo i buon piani con sovracoperta almeno la maggior parte abbiamo di sbieco sulla destra in alto le ore e poi dopo in colonna abbiamo l'occhio del male brooklyn stazione 11 il segreto 13 modi di vedere una ragazza grassa porca vacca febbra all'alba le vite impossibili di greta wells il palazzo delle ombre di maxance fermen i figli dei nazisti tre volte noi il miniaturista e la trilogia dei segreti di paus di edra carrey e in piedi di fianco abbiamo lui è tornato parole in disordine la seconda mezzanotte l'orologiaio di filgristritte e l'ultimo venne il verme allora la seconda libreria sopra a questa insegna luminosa che tengo sempre spenta perché ho paura di scaricarle pile e un bambolino bellissimo che mi ha fatto una una ragazza una mia amica di draco malfoi e la tazza don't let the muggles get you down con la cravatta insomma di serpe verde di cui sono molto fiera e scendendo abbiamo il primo scaffale decorato con i personaggi ovviamente delle folie dell'imperatore e abbiamo e in audi partendo da sinistra naturalmente abbiamo 4321 l'amore prima di noi la casa dei nomi fine missione la guerra degli ormoni vita da libraio yellow birds due come loro ragione sentimento una strana versione di ragione sentimento dio ha misurato il tuo regno norveglian wood le belve long burn house la strada espiazione a volte ritornano le solite sospette una questione privata mi chiamo lucy barton l'universo gli dèi e gli uomini le lacrime degli eroi il mito di elena io agamennone giro di vite orgoglio e pregiudizio l'inventore dei sogni e sopra il mio romanzo rosa viola profumato pandora la prima donna c'era una volta orisse e exit west scendendo di un gradino abbiamo le mie due sailor preferite e abbiamo diverse case editrici per nn o salvare le ossa le prime 15 vite di henry august il paradiso degli animali sono dio la mia vita un paese straniero e le nostre anime di notte poi abbiamo il saggiatore con l'anno del pensiero magico sei romanzi perfetti che sono diciamo è un saggio insomma per su jane usse nelle sue opere poi abbiamo la quadrilogia di joyce carroll oz il giardino delle delizie ricchi loro e il paese delle meraviglie e poi shadow ban che ancora non ho letto qua accanto abbiamo i buon piani però la versione pocket abbiamo fatto e furia delta di venere diario di un vecchio pazzo l'ultima spiaggia the beach da animali a dei la trilogia dei colori di maxon's fair man storia della preistoria la stanza dell'acqua cercando l'imperatore l'isola delle donne e lettera d'alice e qua sopra abbiamo tre random abbiamo la dolcetta delle lacrime di eva cantarella un mini saggio cassandra di crista wolf e andy tetti verdi di lucy mod montgomery scendendo ancora con la mia perfetta esatta riproduzione in versione nano ossia brontolo abbiamo anche qui un bel miscuglio da sinistra a destra abbiamo le assaggiatrici la splendente la felicità del cactus lincoln nel bardo omero iliade di baricco storia d'inverno i borgia il sempente dell'ex sx globalia il giovane robot e reincarnation blues poi abbiamo una stanza piena di gente la quinta serie di daniel keys poi abbiamo eva cantarella con due saggi l'amore un dio e l'amico malanno abbiamo zorro della iende abbiamo perché sherlock si chiama sherlock guida tascabile per maniaci dei libri il dizionario delle cose impossibile e battle royale mentre qua sopra abbiamo dar gentri agenzia investigativa olistica il romanzo di alessandro e il gabbiano jonathan neviston scendendo un tagliolmente per niente decorata però fa lo stesso sempre da sinistra a destra abbiamo i fidanzati dell'inverno dell'inverno sì fidanzati dell'inverno avevo dei dubbi l'ho anche letto perfetto isabella lucrezia le due cognate ragazzo ricco verde oscurità che è meraviglioso leggetelo tutti l'uomo di brand stalker che è meraviglioso leggetelo tutti memoria di una cagna che è meraviglioso e leggetelo tutti abbiamo l'altra praga una cosa divertente che non farò mai più prima amore e altri affanni ragazze elettriche milk and doney leggetelo tutti perché è meraviglioso la moglie dell'uomo che viaceva del tempo come sopra angel jane austen book club claude atlas wild stardust di neil gayman le vergine suicide l'orlando di virginia wolf la fonte magica di natalie babbitt la casa dei libri e il tuo giorno billy lynn sette minuti dopo la mezzanotte e quei librini particolari fatti a bustina di charlotte bronti e la austen l'ultimo scaffale in basso che per me è il più incasinato anche più di quello sopra abbiamo sempre da sinistra ready per layer one il sole è anche una stella la forma dell'acqua parigi senza ritorno di svevo moltrasio bellissimo libro il manifesto del libero lettore chiamami col tuo nome la musa di barton fuga dal campo 14 spettacolare fuga dal gulla il 47 meraviglioso absence che mi ha dato la spicci un'estate con omero che ancora non ho letto ma sono molto curiosa l'ultima fiaba dei fratelli grim mamma tandori l'olito memoria di un giovane libertino il complotto delle statue di cera la mia agenda di youtube dove annoto tutte le letture finzione infinita e poi alcuni fumetti ossia vampire academy in versione inglese josephine molto molto carino di credo sia penelope bageo romeo e giulietta ragione sentimento e orgoglio e pregiudizio ora su questa libreria abbiamo i dvd ve li faccio vedere in questa angolazione perché sto rischiando la vita ancora una volta in piedi su uno sgabello abbiamo orgoglio e pregiudizio di bbc orgoglio e pregiudizio normale tutta la serie della mummia più era scorpione via dalla pazza folla the blind side film meraviglioso animali fantastici e i due dvd di marigold hotel la serie di divergent la serie di anger games ritorno al futuro tutti quanti feste in fuori usciti la bella e la bestia tutta la serie dei pirate dei caraibi dirty dancing 1 e 2 sì mi piace pure il 2 shame on me moonacre o moonacre non lo so incuriosi a casa di benjamin button i gunis la bella e la bestia quello con Vincent Cassel meraviglioso l'alias edu meravigliosi scrivimi ancora ricatto d'amore timeline la casa dei fantasmi shadow santer città di ossa maleficent alla ricerca di jane young vittoria brooklyn ready player one nuova entrata confidante royal che è oddio come si chiama victoria abdul e c'è anche in italiano me l'ho comprato in francia l'apprendista stregone io prima di te headline e equals scendendo di un gradino abbiamo le prime tre anzi le tre serie di versailles in francese the white queen e the white princess tutta tutte le serie complete di gilmore girls le sette più anche diciamo il revival di android la prima serie c'era una volta once upon a time le prime tre la serie completa di orange county de ossi poi dopo abbiamo una serie di musical abbiamo mozart l'opera rock 1789 l'esame della bastille robin de bois che è uno dei miei preferiti le roi soleil che è quello che preferisco dopo robin de bois poi quello in arancino giallino ocra è la legenda roi arthur e quello piccolino e le troi moschitiere poi o vampire academy e le corista qua di fianco o dei dvd doppiati un po random e la trilogia di red blue e green di kirsten gear che sono rouge ruby blu safir e verte merode scendendo ancora ho il mio scaffale dedicato a harry potter e jk rowling decorato ovviamente con i personaggi che prediligo lucio smalfoy severus piton draco malfoy bellatrix le strange grindalwald in edizione limitata più un segnalibro di pelle insomma fatto di cuoio di serpe verde perché è verde e c'è lo stemma di serpe verde un segnalibro meraviglioso che mi ha fatto la tortella un etichetta un sottobicchiere una sciarpa una vecchia code ver con scritto a vada che da bra beach il diciamo non so è un librino un quadernino degli slithering buona vita a tutti un paio di doni della morte un altro meraviglioso segnalibro che mi ha fatto la spicci ovviamente ci sono i tre libri illustrati di harry potter di jim k qua dietro la serie originale di harry potter la dietro anche se non sposto niente perché se no non riesco a tenere il telefono c'è the corset child in inglese animali fantastici e la mia collezione di harry potter in inglese poi qua sotto abbiamo manga e fumetti decorati da sherlock e tom welling in versione smallville quindi superman clark kent la sopra abbiamo marmalade boy little a suaro i primi quattro wolf girl e black prince i tre di sherlock tutto i tazzurana kiss ldk fino al 23 perché il 24 non è ancora uscito sarà l'ultimo la belle la bette i due volumetti che le ho presi in francese orgoglio e pregiudizio versione manga poi abbiamo happy mary anna dai capelli rossi la vecchia versione e maria antonietta storia della giovane regina i tre manga scusate mi sto spostando di your name i due fumetti delle witch gli otto volumi di saga e poi dopo due libri di makoto shinkai cinque centimetri al secondo e your name allora in questo scaffale di solito decorato con quadrini e la collana del le game au coeur come si dice non mi viene insomma quello di hunger games c'erano dei quadrini ma non vi faccio vedere le foto di qua abbiamo richel mid con tutta la serie del accademia dei vampiri i primi tre di 300 rebel l'uno e il due di ewin emilton antiche voci di salem di donna e regina giglio d'oro gli quattro di melissa meyer sindra scarlet crest e winter hunger games la trilogia l'inganno io prima di te e dopo di te glittering kurt e i due di sabatair il dominio del fuoco e una fiamma nella notte qua sotto in questo scaffale pieno solo a metà abbiamo la religione gattolica poi dopo i primi due di time bound time bound e time edge il vortice nel tempo e confine nel tempo di risa walker peccato che non sia uscito il terzo the winner's curse la maledizione la maledizione l'albero delle bugie io sono il messaggero e storia di una ladra dei libri di susac gargoyle di andrew davidson bellissimo nel profondo della foresta anna di ammaniti che atkinson con vita dopo vita l'ultima fuggitiva di tressi chevalier i pazia bellissima ma biografia via dalla pazza folla i segreti di parigi e caraval nuova entrata presa da ruby allora in cima alle due librerie billy abbiamo tutte le scatole dei fanco che ho tenuto una sporta della shakespeare and company un palloncino da rugby molto molto revival la mia tazza di hogwarts con dentro tutti i miei segnalibri e un altro paio di cianfrusagliette però scendiamo andiamo a vedere il primo scaffale che è quello riservato a game of thrones con ovviamente i pop di daenerys su dragon john snow cal drogo là sopra c'è un mini dragon con due mini denny e john abbiamo tutti i libri usciti in paperback il cofanetto con le sei stagioni le prime sei stagioni la settima aspetto che l'ottava così scende di prezzo la vecchia cover dei targaryen la collana di targaryen naturalmente dietro abbiamo il primo tomo illustrato del trono di spade che dovrebbe con anzi dovrebbe contenere contiene i primi tre volumi e qua di fianco abbiamo il mondo del ghiaccio del fuoco libro che ho cercato per un sacco di tempo che mi hanno spedito dopo cinque mesi da quando l'avevo comprato scendendo di uno abbiamo la regina elisabetta con il corgi in tutta la sua rosa magnificenza da sinistra a destra abbiamo orgoglio e pregiudizio illustrato in italiano orgoglio e pregiudizio illustrato in inglese orgoglio e pregiudizio in inglese di questa edizione della penguin classici che adoro ragione sentimento sia sens sensibility sempre in versione penguin classici e poi orgoglio e pregiudizio sempre di jane austin illustrato che mi ha regalato gil per natale dietro abbiamo il tipo i 316 365 usi e costumi a versailles che ho comprato a versailles tutte le stagioni di downton ebby e il librone con il mondo di downton ebby se scendiamo ancora con i miei due pirati preferiti ossia jack sparrow e il diciamo capitano uncino di once upon a time abbiamo da sinistra la nave di teseo illumine e gemina non vedo l'ora che esca il terzo vodka inferno la morte fidanzata che è il primo libro di penelope delle colonne e io voglio assolutamente che arrivi il secondo dietro tinder di sally grinder bellissimo scusate garner bellissimo abbiamo la trilogia della guerra delle rose 436 thunder and lightning di anna giraldo la regina rossa che mi aveva passato spicci il primo libro di shannara 22 11 63 di steven king on the road di kerouac ti amo che è una raccolta di lettere d'amore e the bling ring scendendo ancora con questo meraviglioso e platinato praticamente benny zucco abbiamo da sinistra the queen of the tirling e dietro abbiamo the vision of the tirling e the fate of the tirling naturalmente tutti e tre di erica johansen abbiamo the chemist di stefanie meyer dovrò decidermi a leggerlo realità del dei re scusatemi car de mark l'arte di essere fragili 13 il circo della notte the siren la stanza di kimono il primo bacio a parigi il primo amore sei tu di stefanie perkins reflection e flow ed di cui sta per uscire anche secondo ave cesare e l'ultimo qua in basso è il più eterogeneo abbiamo sopra distesi e lo signoro di cristina anna after il primo che lo tengo soltanto per ricordo la trilogia red brew e green versione paperback e o quella rigida in italia da sinistra abbiamo 80 anni di rugby un libro su rugby ferrarese che ha scritto mio padre in collaborazione con altri tre volte tè di moccia aspettate un lungo fatale inseguimento d'amore della alcott che mi ha regalato metti un mio amico parigi è sempre una buona idea il mio inverno a zero l'andia questo è tutto di hayden chambers abbiamo questa bellissima cosina tipo sembra non so è un pezzo di legno che ho preso da primark con timone pumba con scritto no worries for the rest of your days e dietro abbiamo la trilogia del cavaliere d'inverno di polina simmons l'amore se ne fotte di david sassi il duo con life and death e twilight di stefanie meyer il ciclo dell'invisibile la trilogia la prima trilogia di jenny ann l'estate nei tuoi occhi non è stata senza di te per noi sarà sempre estate raccontami di un giorno perfetto tomorrow war l'isola degli sperduti ossessione di steven king che mi ha prestato la spicci devo ancora spacchettarlo o ridaglielo e il lato positivo più un paio di volumetti bonus da questa parte puramente decorativo tutto a tema la bella e la bestia ovviamente con i pop della bella e la bestia versione live action con missis brick e chicco e la bellissima rosa della beauty and beast che mi ha regalato la marta la mia amica i rossetti là dietro della collezione della bella e la bestia con un quadernino librino che mi ha regalato sempre metti questo mio amico da disney la bella e la bestia in francese e un'agendina meravigliosa che mi ha fatto la mia amica vivi da questo lato pieno zeppo di stitch abbiamo uno stitch con un sacco di zampe il zum zum di stitch lo sticcino seduto le orecchie da minni la sopra abbiamo minu e doriel della ricerca di nemo abbiamo tutta la serie di persi jackson e gli dei dell'olimpo e gli eroi dell'olimpo di ricra jordan soccavo le orecchie che magari forse è meglio abbiamo la trilogia di cuore d'inchiostro di cornellia funk e the selection di chi era cass che io mi tengo perché non lo so dream magic e shadow magic o meglio shadow magic e dream magic sono al contrario io sono buio e i cavalieri del nord di master o strokul sto malamente incominciando appena armi scusatemi comunque qui abbiamo diciamo fra virgolette a tema alice nel paese delle meraviglie con il nostro medetter quella ciotolina che c'era dello yogurt dentro con quel cosino blu mi piaceva questo meraviglioso segnalibro di alice nel paese delle meraviglie che andrà molto presto a qualcuno perché è di qualcuno qua abbiamo alice in wonderland la versione di disney e dietro abbiamo libri random abbiamo l'ospite e ladra di sarah walters intervista col vampiro e la regina dei nannati di hen rice nodo di sangue resti mortali di lore k hamilton di cui ho tutti gli altri libri a casa il piccolo amico e dio di illusioni donna tarte qua in mezzo abbiamo i quattro della serie di ag award del mio splendido migliore amico di cui mi manca l'ultimo che dovrebbe essere di un'altra serie però più o meno dovrebbe essere sulla falsa riga abbiamo robotic heart beauty and the cyborg di miriam ciraolo alessia coppola con la sua trilogia favolonsissima di alice from wonderland e poi dopo sotto proprio random ogni volta che mi bacio muore un nazista di guido catalano poi qua sotto in bella vista abbiamo il profumo del mose dei ricordi di alessia coppola naturalmente con un minions qui e un minions li sopra ci sono un amore alte le stelle e un bacio sotto le stelle di medisa lenders che alla fine me li sono tenuti perché non mi sono dispiaciuti qua in colonna abbiamo la moglie del califo la rosa del califo regalami una stella quanto ti ho odiato sei il mio sole anche di notte destiny magic forever 1 e 2 e nerve e da questa parte adesso tolgo ale sì come se stessi togliendo lei direttamente abbiamo grande amore di en brashore meraviglioso l'ultima dei neandertal passengers and travelers di alexandra bracken quando tutto era possibile finché le stelle saranno in cielo ogni istante di medité il canto del ribelle live forever the danish girl e il mare davanti poi qua sotto ve li faccio vedere velocemente alcuni libri in lingua più via col vento q di luther blissett che mi è stato prestato assassino sull'oriente express guida galattica per gli autostoppisti di douglas adams e direi che è tutto allora spero che il tour sia abbastanza decente verso la fine ho cominciato a sproloquiare malamente perché cominciavo ad avere la bocca secca e essere un pellettino stanca però direi che c'è di peggio ok se avete qualche consiglio soprattutto su cosa leggere nei prossimi tempi perché non prevedo di comprare grandi cose fatemelo sapere perché sono un po' come dire in difficoltà non so davvero che cosa leggere in seguito a quello che sto leggendo fatemi sapere se avete delle curiosità su un libro oppure su un altro e niente spero che vi piazza sono felicissima di esserci riuscita e noi ci vediamo molto molto presto e per il momento vi lascio un bacio fino al prossimo video ciao